Torniamo alla politica oggi, prima assemblea provinciale di agire per il Trentino, movimento politico che fa capo al consigliere provinciale Claudio Cia. Già si pensa alle alleanze in vista delle provinciali del 2018. Il servizio di Danilo Elia. Una forza politica che vuole rompere il sistema di potere trentino nell'interesse dei cittadini. E' così che il neoeletto coordinatore di agire per il Trentino Claudio Cia ha presentato il movimento politico alla sua prima assemblea provinciale. Ci sono situazioni in effetti in cui la politica invece di servire si serve del cittadino e tratta il cittadino come una proprietà. Circa 200 i partecipanti all'incontro sulle rive del lago di Caldonazzo che hanno eletto oltre al coordinatore anche i garanti del movimento. E in vista di alleanze per le prossime elezioni agire guarda a destra. Attualmente noi in consiglio provinciale stiamo lavorando insieme alla Lega, a Forza Italia e direi che il lavoro fin qui prodotto è stato un buon lavoro. Nessuna alleanza in vista con Civica Trentina? Noi non abbiamo mai detto no a nessuno. Fino adesso ci siamo solo sentiti dire di no.